omicidio di fano oggi autopsia e udienza di convalida dell'arresto no al rinvio dei saldi le svendite partiranno il 5 gennaio a scuola in sicurezza col patto educativo di comunità al miralfiore nuovo ossigeno alle politiche giovanili calcio 5 altro pareggio per l'ital service e rinnovo della partnership con ratti una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv ben ritrovati a rossini news telegiornale di mercoledì 22 di novembre che apriamo con l'omicidio di rita talamelli uccisa lunedì a fano dal marito angelo sfuggiti che poi ha tentato di togliersi la vita sono attesi i risultati dell'autopsia per approfondire la dinamica che ha portato al decesso per sospetto strangolamento della vittima oggi si è stata l'udienza di convalida dell'arresto per sfuggiti senza però la presenza dell'imputato che ancora ricoverato all'ospedale santa croce di fano sfuggiti non risulta in pericolo di vita ma allo stesso tempo è in condizioni giudicate incompatibili con l'udienza sfuggiti che assistito dall'avvocato d'ufficio paolo di loreto il pm marino cerione ha intanto chiesto la custodia cautelare in carcere per l'accusa di omicidio volontario aggravato le indagini anche attraverso le testimonianze di luca figlio della coppia hanno fatto emergere lo stato di disperazione del padre al cospetto di una malattia che aveva reso la madre irriconoscibile e ingestibile una situazione che già in precedenza aveva portato l'uomo a tentare il suicidio gli ispettori del lavoro di pesaro e urbino hanno riscontrato un'ipotesi di somministrazione illecita di mano d'opera operata da una società di servizi che esercita nelle settore delle onoranze funebri la società anche se ufficialmente risultava inquadrata come imprese di servizi per onoranze funebri di fatto operava come un'agenzia interinale somministrando personale con mansioni di portantini funebri pur non essendo iscritta all'albo delle agenzie del lavoro ispettori che hanno appurato che la società non aveva dipendenti che per l'esecuzione dei propri servizi affittava portantini a basso costo sottraendosi in questo modo a diversi oneri di legge l'indagine è stata estesa da altre imprese in totale sono state accertate 161 posizioni lavorative irregolari e a carico di 15 titolari di imprese sono state adottate sanzioni per circa 80 mila euro non ci sarà il rinvio della partenza dei saldi invernali come richiesto settimane fa dalle associazioni di categoria dei commercianti i saldi infatti partiranno il 5 gennaio 2024 ma si ragiona su un posticipo a partire dal 2025 non c'è stato il rinvio auspicato da buona parte di commercianti e associazioni di categoria la partenza dei saldi invernale nelle marche è confermata per il 5 gennaio 2024 una richiesta quella del posticipo dei saldi avanzata da anni nel territorio pesarese e che confesercente aveva ulteriormente caricato di motivazioni alla luce dell'ottobre più caldo di sempre che aveva gonfiato il carico di inventuto dei capi invernali la richiesta di posticipo dei saldi era stata oggetto anche di un'interrogazione in consiglio regionale avanzata dal consigliere andrea biancani che ha avuto risposta negativa per il 2024 con la promessa di ulteriori valutazioni per l'anno seguente questa richiesta partiva appunto aveva l'obiettivo di far sì che la regione marchi si attivasse a livello di conferenza delle regioni per modificare la data di inizio dei saldi a livello nazionale questo è importante perché ovviamente soprattutto per quei territori di confine che si troverebbero ad avere un inizio diverso. La conferenza delle regioni per quest'anno per i saldi invernali ha confermato la data del 5 di gennaio quindi in qualche modo non ha accolto questa richiesta di rinvio anche se si è presa l'impegno di verificare per le prossime date di inizio dei saldi di comunque di capire se veramente nasce c'è questa necessità di modificare le date. Parte dalle scuole pesaresi di Villa San Martino il primo progetto di patto educativo di comunità che porterà una serie di accorgimenti utili negli accessi ai plessi all'insegna della sicurezza stradale e della qualità ambientale. Si chiama patto educativo di comunità il documento siglato ieri nel comune di Pesaro che diventa una sorta di progetto pilota a livello nazionale da sperimentare a partire dalle scuole di Villa San Martino. Un patto siglato dal comune, dall'istituto scolastico comprensivo e dai due quartieri Villa San Martino e Tombaccia che gravitano in prossimità dei due plessi oggetto del patto. L'obiettivo è quello di rendere più sicuri gli accessi alle scuole andando in controtendenza alla congestione di vetture tipica di queste dinamiche. Dinamiche che ora diventano di sicurezza stradale e qualità ambientale e che partiranno dalle scuole di Villa San Martino in cui si ragionerà sulla realizzazione delle cosiddette aree kiss and go o di piccole ZTL. L'idea è di cominciare dalle elementari della Don Milani per avviare un progetto che coinvolgerà anche i volontari di CSV e Hauser. Coglie tutta una serie di necessità che si hanno intorno ai plessi dove si accompagnano i figli e si vanno a riprendere a scuola. Abbiamo uno studio a livello europeo che ci dice che la maggior parte del traffico, la maggior parte quindi del particolato e quindi dell'inquinamento dell'aria si concentra proprio in quelle ore ed è anche diciamo nocivo proprio per gli stessi nostri figli. Il progetto perché ha un senso veramente per questo primo patto di comunità che stiamo sperimentando? Perché riprende la progettazione della scuola che è molto diciamo spinta direi piuttosto che orientata verso quello che è il miglioramento dell'ambiente come contesto sociale attraverso i nostri progetti di arte e quant'altro. Quindi nella proposta ricevuta dall'assessore Conti ci siamo ritrovate e quindi la scuola ha aderito da fare scuola pilota e quindi da lì la necessità di definire bene i ruoli di tutti noi per assolvere bene i nostri impegni e anche sperimentare questi pati di comunità di cui tanto si parla ma comunque sono un'innovazione nelle relazioni, nella governance territoriale. Si vuole proprio attenzionare quel luogo sia da un punto di vista della sicurezza stradale ma soprattutto ed è il motivo per cui come assessorato all'ambiente ho deciso di proporlo immediatamente a questa prima scuola che ha abbracciato questo progetto pilota e quello proprio del benessere della popolazione che gravita intorno a questi plessi scolastici. L'obiettivo è anche di renderli vivibili, di fare in modo che siano luoghi cosiddetti kiss and go, così vengono chiamati in Europa, soprattutto dalle due sindache che per prime hanno rivoluzionato due città, la Colau ad Acolau a Madrid e Anne Hidalgo a Parigi. Poi abbiamo qualche piccolo esempio anche in Italia, in qualche città ma potremmo dire che questo è uno dei primi progetti pilota probabilmente in Italia fatto con un parternariato così complesso e così dedicato. L'Università Politecnica delle Marche conferirà domani alle 13.15 la laurea alla memoria ad Alice Fraternali, studentessa pesarese scomparsa ad agosto per una malattia che non le ha lasciato scampo ad appena 19 anni. Alice era iscritta alla laurea trennale in infermieristica nella sede di Ancona, un attestato di cordoglio e un gesto di vicinanza alla famiglia Fraternali da parte dell'Ateneo che sarà conferito nell'auditorio Montessori della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il Comune di Pesaro assegna nuovi fondi per il restauro e la riqualificazione del Giardino della Musica a Rizzortolani. Un milione e trenta mila euro le ulteriori risorse intercettate tramite bando regionale che permetteranno di rigenerare lo scrigno verde custodito tra le mura di Palazzo Ricci e Palazzo Olivieri. L'intervento è stato inserito nella variazione al piano trennale delle opere per l'annualità 2024. Ieri sera si è verificata una rottura dell'acquedotto del Nerone in località Castellaro di Acqualagna. Si tratta di un'area franosa che in occasione di intense precipitazioni rischia di essere oggetto di smottamenti causando guasti all'acquedotto che alimenta i comuni di Fermignano, Urbino, Urbani e Sant'Angelo Invado. Grazie all'allerta fornita dal moderno sistema di telecontrollo due squadre di Marche Multiservizi sono potute intervenire rapidamente e nonostante le avverse condizioni mete sono riuscite a individuare il punto della rottura nella notte, ripararlo in mattinata e ripristinare ogni servizio entro mezzogiorno di oggi. In occasione della festa di Santa Cecilia patrona della musica che ricade proprio oggi 22 novembre il corpo bandistico Giovanni Santi domenica scorsa ha celebrato la ricorrenza nella frazione di Colbordolo conciliandola con il 170esimo compleanno della banda musicale appunto di Colbordolo. Ed ora vi segnaliamo che domenica 26 novembre il comune di Pesaro allestirà un maxi schermo in Piazza del Popolo per l'ultima gara del moto mondiale decisiva per la lotta al titolo del pesarese d'adozione Pecco Bagnaia. Il 24 di novembre il locale Serra degli Agrumi di Pesaro diventerà un nuovo luogo dedicato alle politiche giovanili grazie all'evento Ossigeno realizzato dal Labirinto Cooperativa Sociale. Venerdì è l'inizio in realtà di questo progetto che si chiama Ossigeno che è uno spazio pubblico per ragazzi che sarà progettato e vissuto da ragazzi. Pesaro in questo momento non ha luoghi di aggregazione gratuiti che non siano diciamo condizionati da altri aspetti commerciali per ragazzi e quindi ho immaginato che su un input che all'epoca ci diede l'assessore Belloni che il parco Miralfiore e la Serra degli Agrumi potessero essere il posto ideale per dare una sede pubblica ai ragazzi dove progettare le loro idee. Ossigeno in particolare è un progetto che prevede un percorso di progettazione partecipata da parte di giovani degli spazi del parco Miralfiore che è così centrale nella nostra città ma spesso oggetto di tanti pensieri e ragionamenti evolutivi. La volontà di partecipazione è sicuramente alta. I giovani del nostro territorio sono già abituati a degli eventi di partecipazione abbiamo i tavoli under 20 quindi quello che abbiamo voluto fare è stato sicuramente quello di raccontare che questa è una convocazione diversa, un po' meno teorica che offre delle possibilità di spunti concreti rispetto a quello che insomma emergerà dai tavoli. Ipotizziamo circa un centinaio di ragazzi. Quello che teniamo a sottolineare è che per noi questo non è un unico appuntamento ma è un primo appuntamento. Sarà un momento in cui noi dobbiamo cercare di estrarre da questa attività di lavoro con i ragazzi un profilo, un profilo ideale di luogo e di spazio per ragazzi con tutte le istanze che ci porteranno. Quindi l'abbiamo costruito con il gruppo del forum fondamentalmente e adesso lo allarghiamo il rappresentante d'istituto di modo che a Raggera cerchiamo sempre di coinvolgere un numero crescente di ragazzi quindi per ora abbiamo lavorato con ragazzi che hanno già una certa strutturazione. Dobbiamo andare ad allargare ad altre fasce d'età e anche altri contesti socioculturali e quindi da questa mattina del 24 deve uscire un profilo ideale. C'è di quello che può essere uno spazio anche non fisico ma proprio un'idea che i ragazzi hanno loro stessi delle politiche giovanili strutturali di una città. La domanda che noi faremo sarà quella di attraverso dei tavoli tematici un pochino chiedere loro che riflessioni li vengono in mente rispetto a quello che sentono che in questo momento manca nel loro territorio. Attenzione, il fatto che loro sentano come mancanza non significa che sia una reale mancanza ma noi come adulti dobbiamo comunque raccogliere questo pensiero e farci delle domande per poi poter indagare se effettivamente abbiamo delle mancanze reali oppure dobbiamo lavorare sulla comunicazione, sulla messa in rete dell'esistente che a volte non viene percepito. Quindi saranno delle domande guidate da dei facilitatori. Abbiamo scelto di individuare due facilitatori per ogni tavolo che avranno come tematiche l'ambiente, la cultura piuttosto che le strumentazioni a cui magari non hanno facile accesso e su questo insomma poi faremo un po' una raccolta con un momento poi anche di restituzione. Ossigeno, grazie anche al Garante dei diritti regionale, è diventato una realtà. Oggi presentiamo la prima delle iniziative che riguardano questo progetto che si terrà all'interno del Parco Miralfiore ma che sarà un raccordo di tutte le iniziative delle politiche giovanili in città. Un ruolo diverso ai ragazzi, non sappiamo ancora cosa sarà esattamente Ossigeno ma lo costruiremo in base ai loro bisogni, ai loro sogni e anche alle loro richieste. Alcune richieste mi sono arrivate nel corso di questi mesi tramite le scuole, tramite i gruppi giovani informali e Ossigeno vuole essere una prima risposta reale. È arrivata la sua quarta edizione Vallefoglia d'autunno appuntamento che quest'anno, nelle giornate di sabato e domenica si terrà nella nuova location di piazza del municipio di Montecchio. Iniziamo alla quarta edizione della mostra al mercato dei prodotti tipici di questa vallata che sono le caratteristiche di una vallata importante che va a depesare a Belforte e che dà l'idea che nonostante che questa è una zona tutto industriale l'agricoltura ancora mantiene un ruolo importante il tartufo, il melograno, il miele, l'olio, il travesgine d'oliva insomma il giardino dei colori e la musica dei Killer Queen che è un gruppo conosciuto a livello nazionale e internazionale quindi saranno due giorni importanti di buona gastronomia anche la polenta della Proloco gli assaggi per oltre 300 persone gratuitamente quindi sarà diciamo due giorni se come pare ci sia il tempo bello sabato e domenica dalle 7 del mattino alle 7 di sera in più, dalle 9 del mattino alle 7 di sera in più saranno delegazioni con noi amiche gemellate della Lettonia, dell'Albania ci saranno visite anche al nostro sistema economico e produttivo e questa dà l'idea del ruolo che mantiene ancora l'agricoltura in una vallata che oramai è prevalentemente industriale è un evento giovane, siamo solo al quarto anno quindi l'esperienza non è tantissima però penso che quest'anno vada meglio in quanto abbiamo molte più gente che partecipa come per esempio il Giardino dei Colori che porterà penso molti bambini avremo una band, un complesso molto importante conosciuto in tutta Italia, i Killer Queen c'è una novità nel senso che sabato chi vuole può venire a ritirare dei buoni per un assaggio di polenta che poi daremo alla domenica, il giorno dopo e verremo qui con dei giochi antichi realizzati da noi a mano in legno che sono adatti sia per grandi che per piccini quindi ci aspettiamo anche molte famiglie con bimbi e in più i nostri prodotti che il prodotto ecco principale che abbiamo sono le zucche saranno due giorni dove migliaia di persone potranno essere qui nella piazza del municipio una location nuova, importante ben raccolta, con i giochi d'acqua insomma una cosa veramente simpatica quindi speriamo che venga tanta gente sabato e domenica qui diciamo alla mostra mercato dei prodotti tipici locali della Vallata del Foglio e concludiamo con lo sport ieri sera pareggio 1 a 1 per l'Ital Service in casa della Laziale Genzano Ital Service è rientrata in nottata e questa mattina subito presente in centro storico per l'importante rinnovo della partnership della società di calcio a 5 con il brand della moda Ratti Ital Service e Ratti ancora insieme l'eccellenza pesarese dello stile ha rinnovato questa mattina la partnership con la plurititolata società di calcio a 5 della coppia presidenziale Simona Marinelli e Lorenzo Pizza un matrimonio rinnovato alla presenza di squadre e staff tecnico reduci dalla trasferta infrasettimanale di Genzano finita con un pareggio 1 a 1 la collaborazione con l'Ital Service è nata prima di tutto da un'amicizia con la famiglia Pizza sono nostri clienti ma sono veramente possiamo anche definirli amici e da questa cosa è diventata una cosa comunque interessante uno spunto interessante per fare una collaborazione sul territorio di due realtà che comunque hanno una loro importanza nello sport e noi ovviamente nel nostro ambito imprenditoriale lo sport perché? perché lo sport rappresenta dei valori positivi e quindi rappresenta prima di tutto un ambiente molto giovane noi abbiamo sempre tenuto al discorso di coinvolgere appunto i giovani sia come imprenditori sia come clienti e quindi per noi è molto importante un legame comunque con i giovani e poi lo sport è comunque una cosa positiva perché è impegno è sacrificio ma è anche tanta gioia tanta voglia di arrivare e di vincere quindi è una cosa che comunque ci rappresenta anche in questo senso ci teniamo soprattutto anche per Pesaro perché tutto quello che viene fatto a Pesaro le cose così importanti così noi le sosteniamo sempre anche perché è la nostra città e quindi siamo stati sostenuti e ci fa piacere sempre ogni cosa particolare che è sostenerla perché se il connubio c'è anche quest'anno vuol dire che sì che è importante diciamo la squadra di tal service ma sicuramente la famiglia pizza e il market al service è importante entra il panorama pesarese e avendo qui una partnership corretta una boutique che non c'è bisogno di presentazione soprattutto da parte mia per noi è soltanto che è un onore e un piacere entrare su una location così bella storica per il panorama proprio pesarese per tutta la città di Pesaro per noi è soltanto motivo di orgoglio intanto il tour de force di gare in una settimana ha partorito il secondo uno a uno consecutivo Agenzano si è sbloccato di Olivera portando avanti di tal service poi raggiunta nel finale con una leggera amarezza per aver subito il pareggio nei minuti finali nel minuto finale però dall'altra parte con una grande consapevolezza di quello che è il reale valore di questa squadra che l'ha dimostrato in casa della seconda in classifica gestendo per larghi tratti la gara e avendo anche l'opportunità di portare a casa meritatamente tre punti poi giustamente il nostro sport è così nei finali di gara col portiere in movimento può accadere di tutto in questo caso è toccato a loro riuscire a cogliere un paligio io credo che la partita dove io personalmente qualche recriminazione qualche frustrazione come hai detto te giustamente credo sia a Sandra Bate in casa lì sicuramente in casa deve essere il nostro fortino perché poi è un campionato livellato dove basta pochissimo per salire ma basta ancora meno per scendere dunque sicuramente la partita con Sandra Bate in casa potremmo fare sicuramente meglio come potremmo fare meglio a Cami però abbiamo visto lì a Treviso che non è facile abbiamo visto ieri vinta Sandra Bate tutti i risultati livellati sabato o venerdì affrontiamo il Verona che comunque anche ieri la tua fila da torcere era al Napoli dunque non ci sono partite scontate in questo campionato sicuramente in campionato livellato dove non c'è una squadra a mazza campionato però la costanza e la regolarità nei risultati sicuramente farà la differenza si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News ma prima di salutarvi vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare da quello che arriva subito dopo il nostro telegiornale alle 20.10 una nuova pillola di educazione finanziaria con il nostro format La Finanza è per tutti ospite oggi dell'approfondimento Rita Corraducci consulente finanziario che ci porterà alla scoperta di come investire in tre dimensioni appuntamento alle 20.10 e poi le repliche che vedete in grafica a cominciare anche da questa sera alle 22.30 e poi prima serata che continua alle 21.20 con la terza edizione della serata di grande ciclismo organizzata da Fisoradi Medical Center e CA Virginia ospiti di questa terza edizione grandi personaggi del mondo del ciclismo come Luca Gregorio Riccardo Magrini Filippo Zana Filippo Baroncini Rachele Barbieri Simone Velasco e Giovanni Carboni come detto appuntamento alle 21.20 e poi un approfondimento che vi abbiamo mostrato prima del TG alle 19 ma che ve lo riproporremo anche più tardi alle 22 si tratta di artigiani al centro l'importanza delle botteghe artigiane e del piccolo commercio un appuntamento promosso da CNA arrivato a ruota degli stand allestiti nello scorso weekend in Piazza del Popolo con importanti riflessioni sul mondo delle piccole commercio e delle botteghe artigiane e poi vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Rossini TV che torna puntuale domattina in diretta con Buongiorno Rossini la nostra segna stampa dei quotidiani locali che come sempre vi tiene compagnia dal lunedì al sabato altra diretta dedicata invece allo sport è quella del giovedì sera quella di insieme a canestro con la nostra Elisabetta Ferri che avrà ospiti nel suo studio la guardia della Carpegna Prosciutto Basket Scott Banford e il giornalista Luigi Luminati l'appuntamento alle 21 e 20 come sempre in diretta anche con la possibilità di interazione di voi tifosi al numero whatsapp dedicato 370-366-72-10 e si conclude qui questa edizione di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi